Taranto purtroppo non è una città normale, è la resa anormale l'amministrazione Melucci. L'ho detto tante volte e ogni occasione mi rafforza in questa convinzione. Tutte le principali città italiane, anche quelle del sud che vivono momenti di difficoltà, organizzano per la notte di San Silvestro, la notte che saluta l'arrivo del nuovo anno, degli eventi di piazza, soprattutto musicali, con artisti di grosso calibro nazionale o anche internazionale. Ciò ovviamente dà un beneficio enorme alla capacità attrattiva, all'appeal turistico delle varie città, oltre ovviamente a un ritorno di immagine e soprattutto un ritorno economico. A Taranto nulla. A Taranto i tarantini la notte di San Silvestro la trascorreranno o nelle proprie case o in altri locali e quant'altro. Nessun evento di piazza. Lo sapete che io sono molto parsimonioso nella spesa delle risorse pubbliche. Ho inveito contro il SailGP uno sperpero di danaro pubblico di 12 milioni di euro per tre edizioni, ma viva Dio qualcosina si poteva fare per Capodanno, con spese ovviamente limitate. Prendiamo l'esempio di Salerno. Salerno ospita IPU, cioè un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, la cifra complessiva è di 500 mila euro. Mi sembra una cifra abbastanza contenuta. Mezzo milione di euro, 500 mila euro per un evento importantissimo che davvero farà arrivare a Salerno un sacco di gente, proprio perché IPU rappresentano la storia della nostra musica. Noi nulla, però per Melucci e compagni era importante scialacquare danaro pubblico per quella specie di manifestazione veramente ridicola che ha comportato la dunanza di quattro gatti. Ma Salerno sa fare questo. L'amministrazione di Salerno sa fare questo, l'amministrazione Melucci non lo sa fare. Per non parlare poi anche, io da sindaco per esempio avrei puntato, avrei fatto carte false, tra virgolette, pur di avere di ospitare a Taranto, nella nostra città, il Capodanno con la Rai, con Mediaset, come per esempio fece Matera, come ha fatto Bari. Beh, lì veramente hai una dimensione nazionale perché tutta Italia, tanta gente, milioni di telespettatori stanno lì incollati al video ad aspettare, chi non può andare altrove, ad aspettare il nuovo anno e ovviamente seguono il conto alla rovescia, il countdown che saluta l'arrivo del nuovo anno. E lì ovviamente Taranto sarebbe stata davvero il centro dell'universo, l'ombellico del mondo, passatemi questa espressione. Qui invece, questa è Piazza della Vittoria, sarebbe stato bellissimo, immaginate con la fantasia sogniamo un bel palco qui, fantastico. O avremmo potuto mettere un palco, per esempio, sulla rotonda del lungomare, dico una location qualsiasi. Qui invece avremo, cari amici, il deserto, ancora una volta il deserto. Questa è l'amministrazione Melucci, mancanza di programmazione, marketing territoriale zero e avremmo potuto fare una festa davvero di livello spendendo poco. Ma per Melucci era importante scialacquare da naro pubblico 12 milioni di euro per il 6GP. Tanto chi se ne frega se la notte di San Silvestro i tarantini si ritroveranno più soli di prima. Soli perché abbandonati da questa amministrazione. Che tristezza Taranto, chissà, chissà, magari il nuovo anno spazzasse via Melucci e ci portasse un nuovo sindaco. Io ci spero tanto, dipenderà anche molto da voi, cari cittadini.